Ragazzi niente da fare, lui purtroppo vuole registrare video con me, non ci possiamo far nulla ma io ti devo cacciare Gatto a parte, oggi andremo a fare insieme una challenge molto molto utile soprattutto per me Visto che ogni volta faccio delle penitenze, questa volta voglio invece fare una challenge in cui se sono bravo ottengo una bella ricompensa Cioè quella di potenziare il brawler con cui vinco Infatti giocheremo con tutti i brawler che posso potenziare e se riescono a fare una vittoria Ad esempio partendo con il nostro Bear Beryl, si, meriteranno un potenziamento Guardate quante monete ho, quindi tranquilli che oggi spenderemo un bel po' di monete se riusciamo a vincere Invece se perdo ne spendiamo zero Willy, che cosa dobbiamo fare oggi? Devo riuscire a registrare oppure no? Dimmi tu Ciao Lorenzo Lutini, benvenuto nella squadra Ma quale squadra? La squadra dei leggendari di Matiz Anche lui da oggi fa parte della nostra squadra migliore del mondo Voglio spaccare davvero tutto oggi, non voglio nemmeno una sconfitta Devo potenziare i brawler per arrivare ai massimi livelli Ci tengo ovviamente a salutare tutti i membri del club MZ Premium, mamma mia siamo 99, un solo posto rimasto Se siete abbonati epici e leggendari siete i benvenuti nel club Mentre c'è anche un club in cui si stanno liberando molti posti Che si chiama MZ Empire in cui il capo è Lollopollo Quindi se volete entrate in quel club se non siete abbonati Ora però direi di non perdere tempo abbiamo un sacco di brawler da potenziare Fate questa challenge con i vostri amici Perché secondo me è un metodo molto utile per potenziare i brawler Che se lo meritano di più 3, 2, 1, vai in assedio Perché ho messo assedio con Beryl? No! Ecco, diciamo che forse è un pochino troppo tardi Sì, penso proprio che sia troppo tardi Vabbè, ce ne faremo una ragione Non ho mai utilizzato Beryl in assedio Secondo me non è utilissimo, eh Però, oh, tutto è possibile Guarda, tipo questa Nita la facciamo... Non la facciamo assolutamente fuori Sto scherzando Oh, guardate che bel bombardino che ha il nostro avversario Anzi, il nostro alleato Non me ne ero manca accorto che faceva parte dei nostri Ora, io accumulo Non facciamo avvicinare Nita È uno scontro alla pari quello tra me e Nita Intanto però guardate un po' chi sta accumulando i bulloni Proprio noi Ok? Ok, facciamo fuori lui Non è vero, non lo facciamo fuori Diamo copertura al nostro robottino che è molto cattivo Sono pronto a fare una strage Guardate qui Guardate qui No, volevo dire appunto che la strage la faccio morendo E respawn and adesso Mi pareva scontato Dirvi che non abbiamo ucciso Non abbiamo tolto neanche l'1% Ok, questo è stato il fail più grosso della mia vita, eh C'è da dire la verità Guardate quanto fa male Ma è possibile che faccia più male 8-bit che io da vicino? Dai, ma non è possibile sta cosa Questo è un ribaltone spaventoso, eh Beryl, mi sa proprio che ho sbagliato modalità E adesso ne subiremo Sei io che te le conseguenze Tipo te, vuoi morire oppure no? Oh, finalmente abbiamo fatto una bella mossa ragazzi È la prima mossa decente dopo tre anni Tre anni però Che ci permetteranno di recuperare Perché stiamo perdendo solo di due bulloni Ok, ok 8-bit non riesce ad avvicinarsi Noi invece siamo cattivissimi E possiamo andare verso lei Verso lei un'altra volta lì Cattivissimo Stavolta non abbiamo No, raga, sono vivo solo io Bella, 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 bella Via, 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 via da qui Via, 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 via 12 bulloni a 7 Ok, abbiamo perso Non guardate questo fine partita Perché sarà molto, molto cruento Fidatevi di me Io l'avevo detto di non guardare la fine di sta partita Però voi a quanto pare non mi avete creduto E la state guardando comunque Bene Sì Ok La carta Beryl ormai ce la siamo giocata Con tutti noi stessi Mi dispiace troppo Beryl Non è colpa mia Andiamo di Colt Che come faccia ad averlo al grado 12 E un livello così alto Io non lo so Probabilmente perché non lo uso mai Però stavolta Assedio la cambiamo E potremo provare il nostro Colt In una modalità Come, come, come Questa raffagemme Mi piace, lo sapete? Andiamo di raffagemme, va Stai a vedere che faccio sto video Per potenziare i brawler E non ne potenzio manco uno, eh Io sono capace di fare queste cose Ricordiamocelo Tipo tu puoi morire Grazie mille Gemma per noi No, no, sto scherzando Non dobbiamo far succedere ste cose Ci dobbiamo concentrare al massimo Oh, che ittattara Poverina Vai, vai Ciao, bella Ok, siamo partiti alla grande Siamo partiti davvero alla grande Ottimo Abbiamo praticamente conquistato tutto il campo Let's go Let's go Guardalo lui, poverino No, no, no Non facciamoli arrivare Non facciamoli arrivare Arriva il povero Corvo Che non potrà far nulla Contro la nostra potenza 8-bit Un saluto da Mattiz Mamma mia, ragazzi Potrebbe essere la partita più veloce della storia Appena arriveremo a 10 gemme Senza perdere neanche una Subito contro la rovescia Non facciamoci fregare Guardalo, guardalo, guardalo Come ho No, ma perché ho tolto così poco con la super? Vabbè Rompiamo quello di 8-bit E siamo messi davvero alla grande Ai, ai, ai Oh, che so... No, vabbè Che sopravvivenza abbiamo fatto Non siamo morti neanche una volta C'è nessun compagno di squadra E' morto in questa partita Non ci credo Non ci credo Facciamo fuori tara in questo modo Mamma mia Ma che partita è mai questa? La partita perfetta Colt, tu ti meriti due potenziamenti Non uno Che squadra Quasi quasi rimetterei pronto E giocare con questi all'infinito Se non che adesso dobbiamo potenziare il nostro Colt Colt si merita un potenziamento E mi tocca pure spendere un bel po' di monete Perché guardate un po' qui Ma dove arriva? Dove è andato Colt, ragazzi? E' sparito Eccolo qui 1250 monete per passarlo a livello 9 E sbloccare le abilità stellari Ok, adesso possiamo avere anche quelle di Colt Che non le conosco sinceramente Ma le scopriremo una volta che le troviamo Adesso non mi interessa neanche perché Devo cambiare brawler E andare di Bombardino A Bombardino invece Gli potremmo far provare di nuovo La partita su assedio Che ne pensate? Direi proprio di sì St'assedio mi sta antipatica Ma devo giocare Su giocare Su giocare Perché se no non imparo mai A usarle bene Io butto le bombe sui bulloni Poi come va? Va No vabbè dai Cerchiamo di giocare in modo un po' più strategico Cioè buttiamo le bombe sui bulloni Appunto Cioè non vedo una strategia migliore di questa Sinceramente Non ne trovo una migliore Se non che forse sono morto Non è vero Perché ora lancio questo Ah non sono riuscito a far fuori Bene Bene il robot è nostro Ho fatto la strage Ho letteralmente fatto la strage Certo con robot di livello 2 Non è che ci possiamo aspettare chissà quanto Però possiamo dare un sacco di fastidio Guardate che fastidio riusciamo a dare con Bombardino Direi che questo brawler è perfetto Per una modalità del genere Sì sì Vai lanciamo pure questo Oh Che casino abbiamo fatto con un robot livello 2 Abbiamo vinto No 7% No 7% no eh 7% assolutamente no Non può rimanere così Questa la dobbiamo far fuori con le nostre mani Non con un altro robot secondo me Proviamo ad andare all'angoletto ragazzi Andiamo all'angoletto Angoletto Angoletto Vai Vieni con me Penny Pushiamo in due No Ha messo la bomba E io lancio questo Lancio questo E' arrivato un colpo 1% No 1% No 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 Vabbè tanto sta partendo un altro robot nostro Letteralmente devastati O tra nella prima partita stiamo facendo un devasto spaventoso Dai voglio essere io a fare l'ultimo colpo Ce la faccio Ce la faccio Sì Vittoria per noi Ma questa challenge sta funzionando davvero Sono pure il migliore E potenziamo anche questa allora Ma io ve lo svelo il trucchetto che sto utilizzando In realtà non ve l'avevo detto Ma guardate un po' qui cosa ho Eh già non sto scherzando Felpa blu con la mia skin addosso Meglio di così non posso giocare Vi ricordo che se ancora non l'avete comprate Trovate il link Sia in descrizione che scorrendo qui in basso Sotto al tasto iscriviti E se siete abbonati di qualsiasi abbonamento Trovate degli sconti esclusivi Soltanto per voi Vediamo un po' che potenziamento si merita Il nostro bombardino dove sta Me li perdo tutti oggi eh Eccolo 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 Mamma mia livello 8 anche per lui Ma quanto crescono i miei brawler Me li ricordo quando li sbloccavo per la prima volta Li potenziavo dal livello 1 a livello 2 E adesso guarda dove siamo Che bell'account che sta uscendo fuori Adesso però non perdiamo tempo Pronti con un altro brawler Questa volta voglio andare di 8 bit Detto anche bibi Sì in realtà ho visto 8 bit lì Ma ho detto no 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 Io 8 bit lo odio Mi dispiace Quindi andiamo di bibi Che poverina la escludo sempre Non so per quale motivo In realtà mi piace anche E proverei una modalità Del tipo footbrawl Sì sì 8 bit è troppo divertente Da utilizzare in questa modalità Perché guardate boom Prendi la palla E ciao ciao Vai così Allora buttiamo la palla a tara E poi boom Gli diamo delle mazzate Spaventose ho fatto fuori Tutto attenzione Pronto al tiro Tiro Mamma che sta succedendo oggi Che cosa sta succedendo Stiamo devastando il mondo Boom Pronti al tiro Spaventoso Boom Colpisco lei E basta Oh vattene un po' via te Non rompere le scatole Dai dai subito il secondo gol Voglio subito il secondo gol Colpiamo questo E c'è il 2 a 0 raga Ma non so Cioè io non so che dire Li potenzio davvero tutti i brawler adesso Oh ma non volevo spendere 12.000 monete in questo video Ma stiamo vincendo con una facilità incredibile Niente Bibi passata a livello 6 A livello 7 Buone così Ora andiamo di Tic Il nostro Tic e Taro Dove lo utilizziamo? Sovravivenza non mi sembra molto adatta Ma se proprio potevo dirvi la verità Manco stella solitaria eh Ecco nel dubbio Andiamo su pezzo grosso Che è quello un po' più semplice Ma è così semplice che noi facciamo una cosa un po' divertente Che ne dite se Boom Ci giochiamo 20 ticket Ora si che rendiamo le cose un po' più interessanti No non ci voglio credere No non ci voglio credere Sono il mega brawler Non lo sono mai stato con 8 bit Ma voi siete dei pazzi Siete dei pazzi incredibili No vabbè Con 8 bit è assurdo giocare No 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 Non so se devo essere contento oppure no sinceramente Guarda che devasto però che faccio Guarda che devasto che facciamo Facciamo esplodere tutto in questo modo Mamma mia vai così Beh beccate questa Ciao bibi Ok esploso il mondo Oh non ce la stiamo gestendo male Forse è pure un brawler adatto a questa modalità O forse no Lo scopriremo se riesco a vincere Ok mi stanno iniziando a chiudere Stanno iniziando a chiudere Non so dove andare Andiamo da qui Ok Ok lanciamo questa qui in mezzo Vai 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 Perfetto Mamma mia che esplosioni Ma sto devastando tutto Ok Continuiamo a sparare Continuiamo a sparare Continuiamo a sparare Così 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 Aiuto 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 No 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 Ai 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 Ora mi hanno fatto un po' male Per colpa di Tara Mi sono riuscito a chiudere Ma guardate che esplosioni Sto creando Nascondiamoci No troppo tardi Ciao Tara Vieni un po' qui Cucu Ah no se ne accorta Eh ma tanto non riescono a fare niente ragazzi Li faccio esplodere tutti Ma con che cattiveria sto giocando Ok restiamo un po' nascosti adesso però È troppo divertente ve lo giuro Ah sì va bene Allora io ti sparo Eh scusa Se ti metti a spararmi nel cespuglio Ok andiamo verso sopra Oh no Ah ma è ancora vivo lui E ora è morto Ciao ciao Ancora niente E mi tocca lanciare questa Allora che ti devo dire Un minuto e trentotto Dai basta sopravvivere un altro pochino E ce la facciamo Perfetto Ho ucciso tutti i nemici Non è rimasto nessuno Ah che noia queste partite Sono troppo facili per me E ho giocato anche venti gemme Guarda non mi riescono nemmeno a trovare Adesso sì però Ok aiuto 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 Facciamo esplodere tutto E fuori tutti un'altra volta Ma mi state Aia Ma da dove è uscita questa bibi No no Facciamo esplodere lui Intanto Aia mi stanno chiudendo Mi stanno chiudendo Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Vai 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 così Vai così Perfetto Che partita Due minuti e die Ragazzi Se ce la giochiamo bene Arriviamo a tre minuti Una cosa mai vista O forse no Perché in realtà Mi stanno chiudendo Ecco sì Questo non era assolutamente previsto Lanciamo questa Per allontanare i nemici Ok Io non so che dirvi Siamo a due minuti e trenta E abbiamo ancora un po' di vita Boh Sono il king Non so che dirvi O forse sono i nemici che sono anche un po' squilibrati E non hanno nemmeno un tank Aia Ora mi stanno facendo male Lanciamo questa Allontaniamoci subito Da qui Subito 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 Via da qui Ok Passo in mezzo Vado sotto Raga tre minuti Questo è un record per me È un record È il mio record personale Credo Ma che figata Vieni qua Venite qua Se avete il coraggio Dai Non ho paura di niente Peccati questa Tara Boom Tre minuti Tre minuti E undici Ora sono letteralmente chiuso Non so che dire Non si meritano nemmeno un punto I miei avversari Me li merito tutti io Peccato che mi è finito il raddoppiaggettoni Non sono riuscito a raddoppiare Se era arrivato a 1080 Va bene Ci accontentiamo comunque Io direi che quasi quasi Mi vado a scioppare proprio il raddoppiaggettoni In questo momento Lo sapete Sì sì Andiamocelo a prendere va Ok Tranne il nostro povero balire Siamo riusciti a potenziare tutti quanti i brawler Tranne Ah è vero Devo potenziare 8 bit Mi ero dimenticato Boom Vai così E manca il povero 8 bit Io direi che una partita ce la andiamo a fare E me lo giocherei il nostro 8 bit In sopravvivenza Però proviamola in due Sinceramente Non mi va di giocare da solo Obiettivo Seconda posizione Alla seconda posizione lo potenzio Se no No Sarà molto complicata per 8 bit Conquistare la mia fiducia Soprattutto con una piper Al suo fianco Barilozzo a rompere le scatole Mi sa che lo facciamo fuori pure Povero Barry L'oggi non è fortunato in nessuno dei casi Facciamo fuori Oh oh Attenzione a lei Attenzione alla puzzola Via 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 Scappiamo 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 Diamo un po' di fastidio a lui E andiamocene via K Prima che sia troppo tardi No vabbè non ci credo Non ci voglio credere No il meteorite No 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 Vattene via Andatevene via Andatevene via Ragazzi Io Io ve lo dico che 8 bit Non è il mio brawler Voi non mi credete E sono arrivato quinto Ora mi credete però Challenge divertentissima Non pensavo che sarebbe uscita Una cosa così figa Vi ricordo di passare in descrizione Per le felpe Instagram in descrizione Con tutte le foto E tutti gli aggiornamenti Migliori di sempre E niente Ciao Ciao